sulla cima del monte grappa dopo tipo tre ore di viaggio due strade chiuse per troppa neve ce la si è fatta davvero bellissimo eccolo lì, il sagrare del monte grappa ok galleria vittorio manuele passiamo sotto il grappa grazie torre civica di Bassano del Grappa ahia la testata ok guarda che campanona ammappate e continuo a salire immagino sì faccio un po' come se fosse a casa mia bandiera e panorama e panorama un po' come se fosse a casa mia a in Grazie a tutti.